La Masterclass per me ha rappresentato un percorso di crescita La Masterclass per me è stata l'Università della Fotografia E' alta formazione La Masterclass è una sfida Qualcosa che bisogna regalarsi Ti spinge ad andare veramente oltre Vivi la fotografia a 3.60 gradi, cioè la vivi non la puoi soltanto Conoscere l'altro, conoscere se stesso, costruire rapporti Mi sono accorta che comincio a scattare in un modo nuovo La Masterclass ti dà le basi per il tuo futuro da fotografo A me se qualcuno domani mi dicesse cosa vuol fare E voglio iscrivermi alla Masterclass Ti vorrei ripartire da capo domani Eh, fantastico Se vogliamo un'altra Ne possiamo fare un'altra